Te le metto fuori, non ti preoccupare. Come fate poi effettivamente a cacciarli? No, no, dal movimento. Dal movimento senza altro nel gruppo parlamentare non ci entra. Non c'è la responsabilità del capo politico nell'omesso controllo, dovete fare dei... No, non lo bisogna farlo adesso. Allora, sono giorni difficili per il Movimento 5 Stelle perché questa storia delle mancate restituzioni sta mettendo in crisi il principio cardine del Movimento che è l'onestà. Abbiamo chiesto a Danilo Torilale di venire stamattina da noi perché è uno degli elementi importanti, insomma è quello che ha gestito tutto il no al referendum per il Movimento 5 Stelle e quindi ci interessa molto la sua opinione su quello che sta accadendo. Anticipo la sua obiezione, so benissimo che siete gli unici a restituire i soldi, avete fatto un fondo, il fondo esiste, tra 23 milioni di euro serviti per nobili scopi. Io personalmente il Restitution Day l'ho sempre seguiti, come sapete, in diretta. Rimane il punto che è abbastanza grottesca la vicenda di persone che rubano sostanzialmente i soldi propri perché tu invece di restituire dei soldi, avendo detto lo voglio fare, fai questo trucchetto anche un po', devo dire, no? Terra a terra, di riprenderti il tuo bonifico. Cioè insomma è una vicenda che ci lascia un po' basiti. Io penso che ci sia un accanimento mediatico enorme con che io stesso e Luigi l'ha dimostrato, ovviamente siamo delusi da quello che è accaduto, ma da un altro punto di vista io sono contento e felice che oggi gli italiani sappiano, la maggior parte degli italiani oggi non sapeva, che per la prima volta nella storia della Repubblica Italiana i partiti non si sono tenuti il malloppo dei finanziamenti pubblici fintamente trasformati in rimborso elettorale dal 94 ad oggi, andate a vedere quanto si sono intascati i vecchi partiti, li abbiamo rifiutati, quei soldi pubblici, abbiamo fatto politica gratuitamente al servizio del cittadino e in più dimizziamo gli stipendi, no? Però lo sanno benissimo gli italiani, gli hanno votato anche per questo e questo le voglio dire, è stato un gesto importante e identificante per voi quello, perciò le dico che è complicato adesso capire. Non è complicato, allora, se qualcuno ha fatto il furbo, la bontà di un progetto politico e quello del Movimento 5 Stelle è buono e giusto, è come reagisce nei confronti di furbi. Oggi noi vediamo delle liste dei vecchi partiti con dentro gente, l'ha detto il procuratore nazionale antimafia, collegate con l'Andrangheta, la Camorra o la mafia, candidati dei vecchi partiti, in campagna abbiamo Gigino Apurpetta, candidato da Berlusconi, che guardate su Wikipedia il cursus onorum giudiziario di certi soggetti, perché gli porta un bacino elettorale, viene candidato e a noi dobbiamo subire un linciaggio mediatico per delle cose interne. Io non accetto che si dicano parole come truffa, come rubare, quelle, queste sono donazioni. Il Movimento 5 Stelle, dormendo la notte fuori dal MEF, tre o quattro anni fa, ha fatto aprire un conto corrente per le piccole e medie imprese, in cui tutti potevano, cittadini, imprenditori e anche parlamentari del PD di Forza Italia, che sono sanguisughe che si attaccano, versare parte dallo stipendio. L'abbiamo fatto solo noi. Ed è una cosa straordinaria. Le sanguisughe che si attaccano? Sono vecchi partiti. Ma come può permetterci uno come Forza Italia, che ha un presidente, che è stato condannato in via definitiva per frode fiscale, attaccare il Movimento 5 Stelle per le donazioni? Quindi i vecchi partiti sono sanguisughe e poi è una stragezione dei vecchi partiti. Ho capito bene? Scusi, allora i vecchi partiti dal 94 al 2015 hanno intascato 2 miliardi e mezzo di euro di finanziamenti pubblici che hanno trasformato con nomi di rimborso elettorale. Hanno fatto politica e non hanno intascato. Fermo, fermo, fermo. Hanno cambiato la legge dopo un referendum dal 93. Finanziamento si è trasformato in rimborso. Un rimborso sa che cosa significa? Se guarda dal dizionario. Restituzione di soldi spesi. li hanno spesi 729 milioni. Un ammanco di 1.750.000.000 di euro i furbetti dei rimborsoppoli. Quindi noi non accettiamo lezioni. Detto questo, se qualcuno dei nostri ha fatto degli errori o ha fatto il furbio, gli errori verranno valutati. Perché può capitare che uno fa un bonifico e poi non va a buon fine. Ne abbiamo fatti tanti. Ma quelli sono donazioni volontarie di parte dello stipendio. Ci dobbiamo subito del dente. È uscito anche il suo nome a un certo punto. Sì, mi ha fatto molto arrabbiare questa cosa. Qua siamo veramente al paradosso. La spiega bene, perché non le dico io come sono le cose. Allora, ragazzi, hanno detto che lei da maggio ad agosto 2016 ha fatto bonifici tutti uguali di 1.996 euro. E questo sarebbe strano, perché vorrebbe dire che restituisce sempre la stessa cifra, sottraendo questa cifra, stipendio e spedere per fare politica. Ci si chiede, come mai sempre la stessa cifra? A lei si rende conto che si sono arrivati ad attaccare una forza politica, in questo caso il sottoscritto che la rappresenta, perché ha restituito parte dello stipendio. Io la prima cosa che ho fatto ieri mattina, ho chiamato il consulente del lavoro, assunto dal gruppo parlamentare, camera del Movimento 5 Stelle, e sa che cosa fa questo signore qua. Arriva la busta paga della camera, gli mandiamo la busta paga, ce la trasforma in busta paga a 5 stelle, e lui ha conteggiato quelle cifre, quindi sono esatte. Quelle persone che mi hanno cercato di denigrarmi, oggi sono anche sui giornali, sono persone che si dovrebbero vergognare, e chi ha abbinato il mio nome a presunti irregolarità verrà querelato. Quei soldi oggi sono stati certificati corretti, è tutto normale, lei ha avuto le stesse spese per tre mesi, Da parte del consulente del lavoro, stipendio lordo, meno stipendio 5 stelle, la cifra è quella, punto e basta, si devono sciacquare la bocca. Ma con le stesse spese? Con le stesse spese. No, quello è lo stipendio, quella restituzione riguarda esclusivamente l'indennità che ha lo stipendio, ed è identica, non conteggiata dal sottoscritto, ma da un professionista pagato per farlo. Lo facessero gli altri queste restituzioni? Allora, veniamo ad un altro tema molto importante. Lei ha detto, noi sappiamo reagire in maniera diversa dagli altri, anche di male, l'ho detto molte volte, le mele marce sono fuori, e molti di questi parlamentari, penso per esempio a Martelli, penso a Cecconi, hanno già detto, facciamo un passo indietro. Lei però sa molto bene che è un passo indietro virtuale, perché queste persone verranno elette, una volta elette, dovranno loro, loro sponte, nessuno li potrà obbligare di mettersi. Se non lo facessero, diciamo prima in studio, con esponenti di altre forze politiche, ci sarebbero, almeno a quanto pare, potrebbero arrivare a dieci persone che sarebbero elette con voi, senza poi che fossero parte del movimento. Un bel problema questo. Allora a me piacerebbe parlare d'altro di programmi, di dei paesi che abbiamo, ma rispondo comunque volentieri a queste domande. Queste persone o hanno già firmato, o firmeranno laddove fosse provato che hanno una colpa, cioè che hanno fatto i furbi, un documento che dice io non rappresento i 5 Stelle, e non, e mi impegno a dimettermi. Se l'abbiamo, fatemelo vedere il modulo, che l'abbiamo visto. Qualcuno ci contesta, sì però deve essere il Parlamento. Ecco, a me piacerebbe che tutti i parlamentari firmassero questo documento, in modo tale che i 500 volte a Gabbana che ci sono stati in questa legislatura se ne sarebbero andati. Benissimo, sono orgoglioso di questi documenti. Questo non vale purtroppo, una volta che sei eletto con questo documento qui, purtroppo... Con la maggioranza del Movimento 5 Stelle il Parlamento inizierebbe a provare l'abolizione di Vitalizi. Sai quante volte sono venuto da lei con in confronto anche con Migliore o altri che promettevano, vedrete che entro la fine della legislatura, la fine della legislatura è arrivata e i Vitalizi sono ancora tutti in piedi. Quindi cosa fate? Fate diventare legale questo modulo? Allora, innanzitutto, questo è il modulo che noi siamo stati obbligati a creare stante le regole attuali con il Movimento 5 Stelle al governo con la maggioranza in Parlamento. Noi, vincolo di mandato, lo leviamo, non è più necessario fare questa roba qua. Quando fai il furbo ti dimetti o quando cambi casacca te ne torni a casa. Noi cambiamo le regole di base. Non è più importante, no, a Pesaro c'è candidato Cecconi, personaggio importante del Movimento 5 Stelle che è uno di quelli che ha detto io me ne vado se vengo eletto. A Pesaro gli italiani voteranno per esempio tra Cecconi e Minniti, cosa che ha evocato l'altra sera a cui sono la 7 Renzi. Se loro continuano a votare il Movimento 5 Stelle continuano a votare un signore che dice prima di essere eletto me ne vado. Si può dire ai cittadini votate Cecconi quando poi Cecconi se ne andrà? Loro devono votare prima di tutto il simbolo devono votare il progetto devono votare l'idea di paese devono votare quella forza politica che è per l'anticorruzione a favore del reddito di cittadinanza per l'aiuto alle piccole e medie imprese per l'efficientamento di una pubblica amministrazione che è stata sempre bistrattata dalla politica. Petti Cecconi anche se è lì non può più dimettersi non può più tirarsi via dalla lista quando entrerà in Parlamento con una maggioranza 5 Stelle ed è questo il cambiamento sa perché chi doveva essere cacciato dal Parlamento come Berlusconi o chi voleva dimettersi passavano anni? Perché c'erano i politici all'interno che li difendevano e sa chi ha fatto cacciare Berlusconi? Il Movimento 5 Stelle obbligando un voto palese perché i signori dei vecchi partiti facevano un voto pubblicità rimane ancora un momento con noi perché voglio chiederle anche una risposta a Calenda che ha detto una cosa sulla vostra capacità di governare pubblicità la nostra discussione con Toninelli Ministro Calenda ha usato sostanzialmente questo tema delle restituzioni per dire che voi non sareste in grado di governare sentiamolo un momento così lei poi risponde Noi abbiamo solamente una rendicontazione da parte del MEF dei soldi che affluiscono e peraltro abbiamo resa disponibile ovviamente non sappiamo chi versa o chi non versa perché questo noi abbiamo la cifra totale che abbiamo peraltro dato e non lo so a me la cosa che colpisce francamente è il fatto che non lo sappiano loro perché questo dovrebbe essere il dato soprattutto se uno imprende un impegno così importante anche positivo io trovo però poi deve essere capace almeno di gestire questo se no non si capisce come fa a candidarsi a gestire il paese Insomma Toninelli se non siete capaci nemmeno di fare i conti su quello che dovete dare voi come potete tenere in piedi i conti dello Stato e questa è l'obiezione è simpatico il Ministro Calenda a cui ricordo che dovrebbe giustificare agli italiani come mai l'Italia è l'ultimo paese in Europa per crescita del PIL io penso che invece che parlare delle donazioni del Movimento 5 Stelle dovrebbe parlare perché l'Italia è sempre ultima però risponda alla critica no no risponda anche alla critica ma gli dico anche ma lui è stato è un Ministro del Partito Democratico che non si è accorto che ad Ostia pagava il pizzo ai spada è un indipendente non è del PIL sia un indipendente ma è appoggiato dal Partito Democratico a lui dico una cosa molto semplice non prendere in giro nel Movimento 5 Stelle e negli italiani perché il conto corrente a cui noi con grande orgoglio abbiamo destinato più di 23 milioni dei nostri stipendi come donazioni è un conto pubblico Calenda è un conto del tuo Ministero non è un conto del Movimento 5 Stelle anzi chiediamo velocizzi cerchi di velocizzare la sua burocrazia nel fornirci tutti i dati dei nostri bonifici perché non abbiamo mica l'accesso al clic al suo conto corrente è un tema che circola tanto su di voi è l'incompetenza è il fatto di dire mettere in mano il Paese a persone che hanno gestito ben poco finora è un bel rischio questo poi il tema di fondo l'accusa di fondo come lei ben sa i grandi esperti della politica hanno portato il Paese Italia ad avere maggior numero di disoccupati a livello europeo complimenti ai grandi esperti della politica ma lei sa che in tutti i circa 50 comuni che amministriamo nella metà abbiamo abbassato il debito e negli atti Roma è un miracolo che la giunta Raggi non abbia aumentato un debito pubblico considerati gli interessi sul debito pubblico dei grandi esperti della politica lei è soddisfatto del governo della Raggi a Roma? ma lei si rende conto che il governo della Raggi è il primo comune in Italia ad aver approvato un bilancio in positivo di 68 milioni di euro ma io non dico nulla lei è soddisfatto di come gestire da Roma ma ci mancherebbe altro al 100% abbiamo appena approvato un nuovo statuto che permette anche a lei residenti a Roma di fare una petizione di presentarsi nel consiglio municipale o comunale e di fare una proposta da cittadini incidendo sulla sua vita è una cosa straordinaria le dicono che la mia accontenterei di uscire di casa e non trovare l'ammondizia sotto casa senza fare petizioni sta già capitando sta già capitando e lo stiamo vedendo come stiamo anche già mettendo a posto le strade con appalti pubblici sa che cosa mancava a Roma? mancava la legalità perché gli amici del sistema mafia capitale erano quelli che o venivano a tappare una buca che dopo la prima pioggia di due minuti si ricreava noi le stiamo facendo fare alle imprese serie che hanno vinto gli appalti legalità e persino l'ANAC si sta dicendo che finalmente a Roma è tornata la legalità guardi cosa ha detto Beppe Grillo ha detto non credete a quelli che dicono siamo tutti uguali non è vero ha detto questa frase è importante perché è uno dei grandi mali secondo me della politica italiana pensare che sono tutti uguali però voi anche l'avete fatto un po' questo errore tutti uguali tutti ladri per anni l'avete detto del resto della politica volete fare un mea culpa su questo è stato un errore dire sempre mettere sempre tutti nello stesso mucchio no allora io posso permettermi di dire in cinque anni di aver incontrato dal dirigente di Stato all'imprenditore agricolo al dirigente di una multinazionale e tutti all'unisono se non sono se non fanno parte di quel sistema che si autoalimenta il sistema delle cooperative ad esempio che prende i soldi dallo Stato per gestire l'immigrazione e poi che fa finanze al partito ecco la gente queste serie imprenditori seri ci stanno dicendo tutti che non ce la fanno più perché lo Stato barra politica gli metti bastoni tra le ruote noi siamo una forza politica che agisce gratuitamente non gravando sulle tasche degli italiani nell'interesse di tutti i cittadini onesti mi dispiace dirlo ma il sistema di cui fanno parte i vecchi partiti sono tutti uguali sono tutti uguali perché hanno come unica prospettiva il rinnovo della poltrona i denari e il potere e si vede come hanno abbandonato l'Italia a se stessa senta mi faccia mi dica una cosa perché poi c'è tutto c'è un mistero stamattina che aleggia ma Borrelli se ha problemi di salute non si poteva dimettere punto e basta perché ha cambiato gruppo parlamentare perché non si capisce bene sta cosa aspettiamo che sia lo stesso Borrelli a chiarire io non sono Borrelli non posso rispondere per conto suo e anche io come come lei e tanti altri vorrebbero ha letto il suo post stamattina leggo nella rassegna stampa odierna che alcuni giornali si sono riportati invenzioni fantasiose pure in lazioni pesantemente diffamatorie che ci sono circostanze mai avvenute che mi indica che non ho mai autore di condotte che non ho mai tenuto ovviamente gli autori saranno chiamati a risponderne si è detto che anche lui ha problemi con rimborsi vari con assunzione della compagna questa cosa se vi parla di illazione significa che sono illazione riferite proprio a una telefonatina non gliel'avete fatta Borrelli per capire che è successo io non ho telefonato ancora Borrelli è una persona seria e matura e chiarirà tranquillamente la sua posizione perché è nato al gruppo misto per ragioni di salute si è fatto un'idea a lei? ma quello che so io è che aveva gravi ragioni di salute che non gli permettevano di poter continuare seriamente e uno al gruppo misto si rimette ma dottoressa me lo chieda a lui io non sono Borrelli e ho la stessa curiosità che a lei le illazioni di cui le afferma che lui afferma significa che quello che stanno affermando sui giornali evidentemente sulle definisce le azioni non sono vere non sono vere